Non è invece più giovanissimo, non è un 91 diciamo come Saponara, ma è un 88. Milton Caraglio, che è un attaccante argentino che ha giocato nell'ultima stagione in Cile, tra l'altro facendo molti gol, Milton Caraglio è arrivato in Italia. Io e Dario Massara l'abbiamo scovato in un albergo di Milano, adesso sta riposando in camera dopo il lungo viaggio e avrà degli incontri nelle prossime ore con il Pescara, forse già stasera, domani con il Siena e poi con il Catania, che già da tempo sta lavorando su questo attaccante e lo ha invitato a Catania per cercare di raggiungere un accordo. Vedremo tra Pescara, Siena e Catania chi riuscirà a prendere Milton Caraglio e poi credo che più tardi vedremo anche le immagini, forse le prime parole in Italia di questo attaccante argentino.